ed eccoci qua signori miei domenica 4 luglio la pacchia è finita due giorni al mare sono praticamente diventato come un marocchino nero riprendiamo la strada e che dio c'ho la mandibu e soprattutto depilata oggi domenica 4 luglio per venire da casa mia e a scendere giù al parcheggio in direzione opposta del mare già alle 8 e 15, 8 e 20 era già tutto bloccato giustamente la gente, le persone cercano un po' di refrigerio vanno al mare, in costiera, in penisola gli spazi sono quelli che sono e quindi devono partire la mattina costretti a partire la mattina presto io li guardavo e andavo in direzione opposta però due giorni al mare mi sono divertito con la famiglia, belli belli adesso prendiamo la A30 la caserta Salerno e ci direggiamo direzione nord bella giornata di solo finalmente i giorni scorsi ci stava una cappa di umidità un caldo spaventoso, una percezione del calore spaventoso l'umidità al 92% secondo me non manco in Thailand ho quelle zone delle, mamma mia quelle zone molto umide vanno fatte sul sistema perché ogni tanto qualcuno se ne va a fare un giro contro mano ottima soluzione oggi invece stavo dicendo temperatura 29-30 gradi però cielo alquanto sereno vedo qualche nulla all'orizzondo ma è normale però la temperatura percepita credo che sia quella dei 30 gradi che leggo sul cruscotto perché è sopportabile per me che sono abituato vabbè ragazzi buona domenica buon pranzo a tutti e ci vediamo ciao a tutti